Sarebbe prossima la soluzione ai disagi provocati dal manufatto di via Brigantini in località Lama, San Vito a Taranto, che da anni, versando in condizioni di abbandono e degrado, non solo rappresenta un rifugio per i senza tetto e animali randagi, ma anche un ricettacolo di rifiuti di ogni genere. E quanto scritto dal comune di Taranto in una nota stampa, al centro di una complessa procedura avviata per risalire i proprietari, scrivono la struttura sarà oggetto di un sopralluogo da parte di tecnici ed amministratori del comune, proprio per programmare la caratterizzazione dei numerosi rifiuti che presenti all'interno e all'esterno dell'immobile intaccano il decoro e la sicurezza della zona. Si tratta dunque di un'operazione necessaria, fanno sapere, è prodromica la bonifica dell'area e la successiva demolizione, già disposta attraverso un'ordinanza sindacale, di quello che è diventato un rudere tanto inutile quanto pericoloso. Le verifiche nel manufatto di via Brigantini saranno effettuate dai tecnici comunali alla presenza dell'assessore all'ambiente Stefania Fornaro e della polizia locale nella giornata di lunedì 26 agosto prossimo.